Ciao a tutti amici di Youtubers, oggi sono qui per fare il video illustrativo su un tweak veramente piuttosto utile e interessante. Bene, questo video mi è stato richiesto da una persona, cioè da un mio utente iscritto, e sono contento che lui e molti altri mi chiedano di fare i video. Bene, come sempre questo tweak è esclusivamente a scopo illustrativo e non voglio incitare alcun tipo di hackeraggio. Questo tweak si chiama, vedete, Doc Colorizer, praticamente esso colorerà il nostro Doc, vabbè, Doc Colorizer, praticamente lo ha fatto Big Boss ed è completamente gratuito, è installato e confermato, non porterà alcun tipo di modifica all'interno della nostra home dell'iPhone, aggiungendo alcun tipo di icona, ma si troverà tutto dentro le impostazioni. Immagini ci servirà dopo per farvi vedere la differenza. Bene, allora, se vedete il Doc qui sotto, dove ci sono queste Doc di curvo, è praticamente a un colorito nero rispetto al normale iPhone. Ebbene, per cambiare il colore del Doc basterà andare in Impostazioni e scendere tutte le voci fino a Doc Colorize. Bene, entrando in Doc Colorize la prima cosa da fare è attivare Enable Doc, che è la prima. Enable Switched, io ho provato ad attivarlo e disattivarlo, ma la differenza era minima, non cambiava niente. Bene, ora, come prima cosa, qui ci dice che le immagini sono salvate in questa cartella e praticamente quelle di default sono queste. Bene, non ci fa un select per sceglierle, ma saremo noi a dover scrivere per cambiarle. Bene, come vedete qui dà i nomi Doc, Black, PNG, significa il Doc nero, Pink, Doc, eccetera, eccetera. Se uno vuole, per esempio, il Green Doc, deve cancellare tutto e scrivere, identico paro paro come c'è scritto, GreenDoc.png. Bene, scritto. Potremmo benissimo, cioè per farlo funzionare sarà obbligatorio riavviare il telefono. E praticamente sotto poi ci può far anche cambiare il colore dello sfondo nel quale troviamo il multitasking. Come vedete qui, Lean Purple, Lean Blue ed è la stessa cosa, ma va sempre riavviato. Bene, io non posso riavviare il telefono molte volte, ma l'ho già fatto e ho fatto delle foto. Bene, come vedete qui ho provato a mettere il Link Purple, oppure il Link Yellow, oppure il Link Nero, come era prima. Naturalmente sono più tipi di colori e più tipi di modelli, si possono scegliere e si possono aggiungere aggiungendoli in quella cartella, ma con una procedura molto più complessa, magari adatta a persone più esperte. Bene, spero di essere stato chiaro. Ciao a tutti da Super YouTube 17. Sette. Sette.